Ciao a tutti, sono il Rinocenoti di Orgoglionerd Se oggi andate sulla stampa, la stampa tv no, la stampa.it anzi e andate su tecnologia, vedrete questo video spero di inquadrarlo 100.000 luci per un Natale con la musica di Star Trek e fin qui, tutto bene andate a schiacciare play e sentiamo la musica di Star Trek e divertitevi